Giovedì 14 aprile 2022, Fran Miolievic vince la terza tappa del Giro di Sicilia. Una tappa caratterizzata da molto vento forte, per lo più contro i corridori. Te ne parlo in questo video. Prima se ti va, iscriviti al canale, lascia un mi piace ed attiva la campanellina. Rimarrai così aggiornato sulle prossime news dedicate al ciclismo. La tappa è stata condotta da un gruppetto di 5 corridori in fuga. A 40 chilometri dalla fine, il loro vantaggio sul gruppo era di circa 3 minuti e mezzo. Vantaggio sceso ad 1 minuto e 27 secondi a 10 chilometri dal termine. A questo punto della gara, il vento per lo più sempre contrario e la stanchezza si sono fatti sentire. Parte in una crono personale il croato Fran Miolievic e nessuno riesce a stargli dietro. Terminerà al primo posto con il tempo di 4 ore, 54 minuti e 7 secondi. Dando 41 secondi al gruppo che giunge in volata. Seconda piazza del podio per Pier Andrè Cotte. Terza per Filippo Fiorelli. Quarta per Nicola Venchiarutti. E quinta per Vincenzo Albanese. La maglia dei leader della corsa va a Miolievic. Prossimo appuntamento col Giro di Sicilia domani con l'ultima tappa. Ragana-Etna piano provenzana di 140 chilometri. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Ti invito a seguirmi anche sugli altri social. Trovi in sovraimpressione tutti i riferimenti. Un saluto sportivo da Lucoral.